I fatti narrati in questa storia sono accaduti molti decenni fa, nelle terre ucraine, dove al centro della foresta antica e magica, custode di enigmi e di incanti misteriosi, si innalza la montagna nera. Il segreto più grande che la foresta custodiva era la sorgente della vita, nascosta sotto il salice magico. Questa rinvigoriva il bosco intero, dando forza ed energia a tutti i suoi abitanti. Durante un inverno, mentre la foresta riposava sotto la neve, un essere umano l'aveva disturbata attraversando il passaggio sotto la montagna nera. Dormivano tutti tranne Lesch, l'enorme custode della foresta, che si trovava nella sua postazione da guardiano. Il disturbatore era il proprietario di una segheria in cerca dell'acqua della sorgente della vita per la figlia malata, che grazie a essa si salvò. Passato qualche tempo, era tornato nella foresta, ma questa volta non era solo. Ad accompagnarlo c'era un esercito che voleva rubare tutta l'acqua della sorgente. Il custode della foresta si trovò costretto a difendere le proprie terre e così scoppiò una grande battaglia senza un vero e proprio vincitore. Gli invasori morirono, ma anche il custode perse la sua antica vitalità. Il fumo di un grande incendio si innalzava nel cielo. La sua foresta era stata distrutta dal fuoco.